ciao a tutti sono claudia ora birba da quasi sei anni l'ho acquistata nel giugno del 2012 è una macchina che è fantastica io la utilizzo a fare di tutto perché realmente ti aiuta a tenere la casa e non solo perché io la uso anche fuori casa avendo un'attività e stirare soprattutto da quando si comincia a stirare con birba bisogna dimenticarsi vaporelle ferri da stiro eccezionali perché niente stira come birba una che la prova anche per altre cose per i vetri per la cucina per i sanitari che sicuramente sapete tutti che hanno un'importanza di disinfezione tutto il resto importantissima divani tappeti la utilizzate su tutto e vi accorgete che dimezzate i tempi e sicuramente avete dei risultati eccezionali sicuramente anche claudia con meno fatica ma sicuramente io ho anche un gatto se vuoi venire qua felix sei anche tu e quindi avendo anche gli animali devi sanificare la casa lui ovviamente si appoggia ovunque quindi ha bisogno di essere tutto pulito e sanificato quindi birba aiuta tantissimo perfetto claudia grazie mille della tua videotestimonianza grazie a te ciao ciao ciao